Seconda sconfitta consecutiva per la Carpegna Prosciutto Basket Pesero, che dopo Treviso perde anche alla Vitri Frigo Arena contro la Fortitudo Bologna. 70-78 il risultato finale. Non bastano i 19 punti di Massenat di fronte ad una difesa troppo permissiva per il disappunto di coach Yasmin Repja, che rende merito agli avversari bolognesi. Vorrei fare complimenti a Fortitudo perché hanno vinto con pieno merito. Noi mai siamo riusciti a prendere il ritmo della partita, sia in difesa come in attacco o in attacco contro Cambi. Dovevamo attaccare a modo come abbiamo parlato prima della partita, mai siamo riusciti a produrre tiri facili. Nello stesso tempo in difesa, onestamente senza focus, con tanti canestri subiti da sotto facili, ritardo in rotazioni, dopo raddoppi, senza tagliafori. Una difesa che onestamente non ha fatto suo dovere, diciamo così. Mi dispiace ma è stata una pessima partita da nostra parte e da tutti i punti di vista. Male la Vuel, bene la Vispesero che sabato ha trovato la prima vittoria in trasferta della sua stagione. A Imola i biancorossi vanno sotto per il gol di Moracchioli, ma rimontano nella ripresa grazie alla doppietta di Flavio Lazzari, bravo a capitalizzare un assist di De Feo e trasformare un calcio di rigore conquistato dallo stesso De Feo. Con questa vittoria la Vis supera Imolese e Legnago uscendo dalla zona retrocessione. Il primo tempo è stato un primo tempo un po' non bello, dove ci siamo fatti addirittura gol da soli, però poi c'è stata una grande reazione, una voglia di riacciuffare una partita nata male. La mia squadra è quella al secondo tempo. Io vorrei che giocassero sempre con questo piglio, con questa aggressività e con questa voglia di andare in avanti e nell'aggredire. Così è stato il secondo tempo e ci ha permesso appunto di ribaltare questa difficile partita. Buon momento anche per l'Alma Juventus Fano che dopo il pareggio di Pesaro e la prima vittoria di mercoledì sul Legnago, questa domenica ha fermato sull'1-1 la Feralpi Salò al Mancini, con parlati bravo nel secondo tempo a riacciuffare il vantaggio di Scarsella. Sì, era quello che ce l'avevamo detto negli spoileroi, tra di noi e col mister, anche dare continuità alla vittoria con il Legnago. Ci siamo riusciti in parte perché, visto la gara come si era messa anche lì negli ultimi minuti, si poteva fare un pochino di più, cercare anche la vittoria, però teniamoci stretto questo risultato, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e pensiamo già alla gara scontro diretto con l'Arezio che abbiamo tra due giorni. Sorride anche l'Ital Service Pesaro che nel campionato di calcio a 5 ha vinto 3-1 il big match contro la Sandro Abate Avellino. Merito dei gol di De Oliveira, Borruto e Taborda, bravi a rimontare il vantaggio dei campani. Una vittoria che mantiene l'Ital Service al secondo posto in classifica alle spalle dell'Acqua e Sapone.